Ciao! Voglio farti vedere qualche offerta del nuovo catalogo numero 14. Intanto in copertina c'è un'immagine stupenda di una super ragazza con scritto Perfezione a prova di zoom, la nostra pelle perfetta con i nostri fondotinta. Perché? Perché dobbiamo assolutamente proteggere la nostra pelle con il fondotinta. Quindi sfatiamo il mito che il fondotinta rovina la pelle, assolutamente no perché va a proteggerla. Infatti hai la possibilità di scegliere qualsiasi fondotinta tu vuoi e hai ovviamente la crema giorno perché senza crema, senza crema, senza trattamento è impossibile andare a mettere dopo il fondotinta. Bisogna curare la pelle assolutamente, soprattutto il nostro viso. Quindi scegli il tuo fondotinta e al 40% hai la tua crema preferita e la puoi scegliere con il codice con la L. Toppissima! Un'altra offerta pazzesca di questo album è che cosa? Due saponi o due creme o sapone e crema a 5 euro! Bellissime perché sono profumatissime, le puoi mettere in borsa. Io il sapone, questo qui, lo metto dentro i cassetti, anche dei vestiti dell'intimo fa un odore pazzesco. Oppure io inizio a proporre alle maestre, per esempio, alle rappresentanti di classi per proporre questi regalini così fighissimi per le maestre d'asilo, le maestre di scuola. Poi li confeziono in maniera molto carina ed escono pazzeschi. Un'altra fantasticheria che c'è in questo catalogo, assolutamente, è il calendario dell'avvento. Questo qui molto probabilmente non sarà disponibile per tutta la durata dell'album, però fino al 29 ottobre ci sarà sicuramente. E poi un altro prodotto fantastico è il nostro, le nostre labbra a prova di zoom, una novità della Rish Creme insieme anche al trattamento. Eccolo qui. Questo qui, praticamente, guardate l'immagine, è fighissima. Elimina tutte le rughette che ci sono intorno alle labbra, quindi le rende più luminose, più lisce, più levigate. E poi cosa fa? Le gonfia! Diciamo che dà quella sensazione di avere le labbra perfette e soprattutto applicando questo balsamo giorno dopo giorno. e poi la sensazione di avere le labbra perfette che ci sono intenzionati a fare le labbra perfette. Grazie.